Messina che evita il 2-0, primo tempo che si chiude con il risultato di 1-0 al 74esimo, la pareggia il Messina e lo fa con il mancino vincente da fuori area di Marco Rosafio che ha la quarta da titolare con la maglia dei siciliani trova il primo gol al suo ritorno in quel di Torre del Greco ma il vantaggio dura pochi minuti perché il Messina ritrova il gol del pareggio con questa girata di Emma Uso e questa volta il gol fa impazzire nel settore occupato dai tifosi del Messina gran girata, gran gol, il settimo stagionale per il club